ciao a tutti sono nicole di kiss make up 01 su youtube e oggi sono qui nello showroom fornarina a milano per il lancio delle nuovissime calzature yuki ho realizzato il trucco delle modelle e mi sono ispirata visto che le yuki ricordano molto il giappone mi sono ispirata appunto alle geisha giapponesi però ho voluto fare un trucco un po da geisha moderna quindi rivisitato e niente questo è tutto io vi mando un bacione ciao